Musica Cari telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo a Cairo di Monbaroccio, in provincia di Pesaro e Urbino dove si stanno svolgendo 4 giornate dedicate alla pasta italiana per eccellenza, la tagliatella fatta a mano e in questa festa che quest'anno giunge alla sua decima edizione si parla di un ingente quantitativo di pasta addirittura di quintali di tagliatelle preparate dalle cuoche, dalle volontari del comitato organizzatore e come vedete alle mie spalle qui è tutto pronto per dare il via alla terza serata della festa della tagliatella Musica Ci siamo spostati nel cuore, nel motore della manifestazione, infatti come potete vedere qui che vengono preparate le tagliatelle tagliatella e ornella che verranno servite con diversi sughi, giusto? Sì, la tagliatella che è servita con il ragù, il sugo ai fagioli e tagliatella ai funghi Però sono anche altre le prelibatezze che i tanti volontari stanno preparando? Sì, qui al Cairo le specialità culinarie sono diverse Abbiamo, ieri e l'altro abbiamo fatto l'occhio in porchetta, oggi abbiamo coniglio in porchetta Poi aggiunta a queste specialità abbiamo una grigliata mista, piadine farcite con prosciutto, salsiccia, formaggio, stracchino e quanto uno le voglia E poi patatine fritte con tonni di tutte e di più Ma ce n'è per tutti i gusti Vorrei sottolineare anche la compattezza, la squadra che c'è di volontari, giovani, meno giovani, insomma tutti a lavoro per rendere al meglio questa manifestazione Sì, di anno in anno qui al Cairo si è formato un gruppo veramente solido Un gruppo che di anno in anno si è rilevato sempre più competente nei suoi lavori, nei suoi compiti e anche nelle sue responsabilità Perché alla fine noi ci divertiamo ma sotto sotto ci sono delle grandi responsabilità Per questo voglio dire grazie a tutti i collaboratori, a tutti che sono qui sotto lo stand Che lavorano da giorni e giorni per organizzare e preparare questa festa Vi lasciamo al lavoro Grazie, grazie a voi Quest'anno ben quattro giorni sono dedicati all'evento Però in realtà l'organizzazione parte da mesi prima addirittura Sì, l'organizzazione parte a dicembre perché a dicembre si comincia a organizzare la prestazione delle orchestre Tutti i vari permessi e poi a seguire di mese in mese riunioni su riunioni per organizzare al meglio Certo E nei giorni scorsi anche le Massai si sono incontrate per preparare queste tagliatelle Ma quante uova avete utilizzato? Eh, migliaia di uova In quante eravate a prepararle? Eh, in quattro, cinque, sei, secondo come uno aveva il tempo Insomma c'è stato un bel lavoro da fare Un bel lavoro da fare, sì, tanto Un lavoro che continua anche oggi e tutto domani Poi sono tutte tirate col mattarello Fate tutte a mano, tagliate a mano Come Ornella, lei è la taglierina delle tagliatelle Quindi rigorosamente fatti a mano E sono qui a Cairo di Monbaroggio E nel sabato sono qui Ho ancora in fondo agli occhi Mille luci rosse che Mi hanno accompagnato fino a qui Se guardo nei tuoi occhi Tutto gira intorno a me Che grande confusione sento qui E tutte le parole che volevo dire a te Si perdono in un fondo di caffè Ma che sarà, che sarà mai Se il mondo gira intorno a noi Di un posto che girare aspetterò Aspetterò l'appuntamento Questi signori hanno già finito di cenare Posso chiedere che cosa avete ordinato? Quasi, lei ha quasi finito Che cosa aveva? Tagliatelle? Tagliatelle, ai funghi Pagioli, patatine fritte E lei invece? Giusto per stare leggeri Ogni tanto ci sta Piedina io Voi che cosa avete preso? Per me è una piadina Siamo più leggeri Di dove siete? E pagioli? Di dove siete? Pano, dai Io bellocchi Fenile Il gruppo è quello Buona serata La festa della tagliatella Non è soltanto gastronomia Perché qui c'è intrattenimento per grandi e piccine Ad esempio c'è anche la pesca La mitica pesca Che cosa si può vincere? Soprattutto fiori Piante E poi però ci sono anche un po' delle cose diverse Dall'abbigliamento Al mangiereccio Vario Che cosa stanno vincendo per la maggiore? I fiori E si lamentano Perché? Non piacciono Solitamente le signore sono contente Sì, sono contente Poi però Quando vedono l'amica che vince Non so Il miele piuttosto che la farina Ah manchiero Questo è Signore bisogna ritentare Ripescate Signora posso chiederle che cosa ha vinto? Che cosa ha nella busta? C'è due fiori E una farina Quindi rimaniamo in tema della gastronomia Lei invece signora? Due fiori e una cannottiera cos'è? Insomma le piante sono sempre un bel regalo Sì, sì Quello sì Piacciono molto Sì, molto Buona serata Grazie altrettanto E si gira con questo box Scritto da Massimo Venturi Music Club Andiamo un bacio agli amici di Capizia Qui c'è un'altra bella tavolata Vediamo che hanno appena ordinato da mangiare Ci sono tagliatelle sia con il sugo tradizionale Quello al ragù Ma anche con il sugo ai fagioli Come sta andando la serata? Ah bene, bene Per il momento è bene Siamo appena arrivati Ma adesso ci ambientiamo Di dove siete? Noi di Pesaro È la prima volta che partecipate alla festa della tagliatelle? Io sì È la prima volta Sì, sì È la prima volta quest'anno Nonostante ho abitato qualche anno qua vicino Però non sono mai venuto Ha già assaggiato le tagliatelle? Sì Appena, appena Adesso proseguo Però sì Sono buone? Sì, direi di sì Come quella della mamma Sono buona Applauso alle cuoche Ai cuochi che sono dietro Sicuramente sì Bravi Sì Sì Anche con gli organizzatori Ci conosciamo tutti Noi abitiamo 3-4 chilometri da qui Quindi Sono venite volentieri Sì Una cosa Ma Sarà un altro A parte che vabbè Adesso in questo periodo Ci sono dappertutto Di tutti e di più Però È per passare una serata diversa Dopo poi Se uno Se uno anche balla O fa qualcos'altro È ancora meglio Noi ci accontentiamo di mangiare Un motivo di passare insieme Una bella serata Allora un saluto a tutto la compagnia Buona serata Che ce la fai? E sono stata invitata Da questo gruppo numeroso Pieno di spirito Di grinta Sono vicino A Mario A Umberto Questo è splendide signore Allora buonasera Vi vedo cariche Siete pronte Andate in pista A ballare O prima dovete ancora cenare Stiamo a vedere Poi andiamo a ballare Ma balliamo bene Poi mio marito Se bala con te meglio E so anche che qualcuno qua Ha da poco compiuto gli anni? 50 anni di matrimonio Si vedi Che ha perseggiato i 50 anni Chi? Lei signora? Ah Allora complimenti Insomma un traguardo Davvero davvero importante Che cosa vi tiene uniti Dopo tutto questo tempo? L'amore Fiola mia E' una roba La pazienza Più di tutto quella Se ne vuole di pazienza E quindi sarebbe lei Il bravo ballerino? Si io ballo Mi piace Però la moglie C'ha una gamba Che soppa un po' E allora Facciamo I sgambetti Se trova una bella sposa Di un altro uomo L'ha invinto E la porta a ballare No no Deve festeggiare anche il 51esimo di matrimonio Quindi rimanga Rimanga con sua moglie Vi auguro buona serata Io vi festeggio il 25 di settembre Lei 25 di settembre Ebbè ma allora qui insomma ci sono coppie molto unite Complimenti Che roba Visto che roba Abbiamo io a Villa Grande La signora La Carrara Complimenti davvero Auguri a tutti Ecco lei invece è proprio mumba roccise doc No io sono nato qui E sono andato alla dottrina Al Cairo Con tutti i miei cugini Mia sorella eccetera Quindi la festa della tagliatella L'ha vista nascere La festa della tagliatella È la più bella Quindi si mangia bene Ci si diverte No si mangia molto bene Questi sono i miei parenti Tutti Cosa devo dire Che I ricordi È una cosa molto bella E c'è tutto Ecco Noi siamo nati qui E tutti gli anni Facciamo questa visita Perché per noi È la vita È un ricordo Che non dimentichiamo mai Ok Ciao La ringrazio Buona serata a tutti Ci hanno fatto i complimenti perché le tagliatelle erano buone Glieli facciamo allora Erano buone grazie Buonasera a tutti Arrivederla Tante persone alle nostre spalle che sono in fila per ordinare il cibo e la cena dimostrano che anche quest'anno avete riscosso un grandissimo successo Sì in queste due serie precedenti abbiamo riscolto molto successo abbiamo avuto molta gente ieri sera molto più dell'anno scorso e anche la prima serata Stasera si sta riempiendo anche stasera penso di fare il pieno come gli anni scorsi perché è una festa che ormai è tradizionale che va sempre ingrescendo E speriamo che anche quest'anno sia come gli altri anni in aumento E anche quest'anno ritorna la lotteria vedo che lei ha propri biglietti in mano eccoli qua C'è una lotteria con ricchi premi il primo premio è una tv 40 pollici il secondo premio è un rupo aspirapolvere il terzo premio un kit di esporte il quarto premio un forno pizza il quinto premio una bistecchiera E poi c'è un quinto premio è una sorpresa per i dieci anni di festa dei decimoni della festa di Stadagliatella Un modo per festeggiare ecco già il primo decennale Una sorpresa agli ultimi clienti che vengono alla festa agli ultimi ospiti Perfetto facciamolo vedere eccolo qua i premi della lotteria E chi non potrà essere presente in queste giornate potrà comunque recuperare Insomma perlomeno vedere il numero di biglietti vincenti Potrà vedere i numeri vincenti mercoledì prossimo nei quotidiani locali il Carlino e il Corriere Adriatico Sono insieme ad Alessandro Mokorvic voce ufficiale della festa della Tagliatella Alessandro insomma anche tu hai visto un po' questa manifestazione crescere nel tempo Sì ciao a tutti sì 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 ed è un grande piacere È un grande piacere perché sono qua da sei anni E il fatto che ci sia bisogno di una figura come me la dice lunga un po' no? Su come è organizzata su quante persone vengono Io ho avuto la fortuna di farne tante di queste manifestazioni Vi garantisco che dalle 18 in poi la partecipazione che c'è qua non si è mai vista da nessuna parte Uno dei tuoi compiti è anche quello di seguire i vari giochi che ci sono nell'evento Ci sono anche delle novità introdotte in questi ultimi anni Eh sì le abbiamo dovuto inserire Anzi i ragazzi gli amici del comitato le hanno dovuto inserire Io me ne occupo un po' con qualche altro collaboratore Alle tue spalle c'è la ruota poi dopo la vedremo Bisogna intrattenere perché soprattutto nelle giornate di sabato e domenica Già dalle 18 alle 18.30 ci sono diverse decine di metri di fila Servono quintali e quintali di tagliatelle, migliaia di porzioni Tutto il resto che sicuramente avete già presentato Quindi ci sono vari giochi dalla pesca alla lotteria alla ruota appunto In cui si dà ogni ben di Dio da bere e da mangiare Quindi c'è bisogno veramente ogni anno di inserire qualcosa per intrattenere le persone Per chi aspetta di ballare, chi aspetta di mangiare Chi ha finito di mangiare magari aspetta il marito che è andato a prendere da bere Quindi diciamo che è tutto veramente veramente molto bello in un periodo come questo In cui magari qualcuno si fa anche qualche scrupolo, vado o non vado Io qua stasera ho conosciuto persone di famiglie di Gradara, Roma, Milano, Pesaro, Fano Emilia Romagna, Romagna soprattutto disparate località Tutto bellissimo veramente Dicevi tu prima, alle mie spalle c'è questa ruota, come funziona? Allora questo è un gioco che abbiamo inserito l'anno scorso Proprio per i motivi che ti ho appena detto In pratica vendiamo 54 numeri Viaggiamo su varie serie Adesso c'è la serie azzurra che il nostro amico Fabio sta inquadrando Abbiamo la serie gialla, abbiamo la serie rosa e vari colori 54 numeri, un euro a numero Quando ne abbiamo venduti tutti 54 Chiamiamo uno dei tanti bambini che c'è qua alla festa Facciamo fare tre giri di ruota E in linea di massima i premi sono Il terzo premio è una bottiglia di bianchello Il secondo premio è un salame E il primo premio è una mezza lonza Ogni tanto inseriamo anche come primo premio un prosciutto intero In quel caso due euro un biglietto Tre biglietti cinque euro Un altro modo per dover Intrattenere le varie persone ci fa piacere e ci divertiamo Che sarà, che sarà mai Se il mondo gira intorno a noi Un'occasione ci sarà per me E sono sicura che il tuo guardo con il mio si incontrerà E allora sì, sarà quel che sarà A me, a voi, a voi, a voi, a voi Le stelle sembrano per me ma non è così, lo sai E tutto il mondo non si ferma mai Continuamente il vento muove nuvole lassù Che cambiano il vestito rosso e blu Tante persone venute da fuori per la festa della Tagliatella Ma tanti sono anche invece coloro che invece abitano in zona, giusto? Voi siete proprio di qua, di Monbaroccio Sì, è tre chilometri da qui Vigilissimi Io sono del comune di Monbaroccio E venite qua più o meno tutti gli anni Sì, esatto Anche lo scorso anno dicevate più serate Sì Avete partecipato Sì, sempre Tutte le serate siamo qua In compagnia perché a noi ci piace la compagnia La sua un po' di meno però lasciamo perdere Mi piace quella della moglie lui Mi piacerebbe con le altre ma non si può Ecco, però mi diceva che comunque lei questa sera non è venuto solo per mangiare Ma anche per ballare, fra poco andrà in pista Domani sera c'è la tradizione che mi piace molto Però stasera c'è questa ripresa Allora mi piace per quelli Mi posso rivedere, dire che sono in vita Certamente, sempre su Fano TV Grazie Buona serata Dimmi perché quando credo Credo solo in te Che non mi vuole Dimmi che fai Che non mi lascerai mai Dimmi chi sei Respiro dai giorni miei d'amore Dimmi che sai Che solo me sceglierai Ora lo sai Tu sei il mio unico grande amore Moreno tu che questa sera hai lavorato alla casa e hai potuto constatare veramente quante persone sono arrivate durante la serata Tantissime Tantissime Tante 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 Tanta fila fino a tarda sera praticamente Tantissima gente Facciamo del nostro meglio di reclutare anche ragazzi sempre più giovani in modo di farli entrare con noi e a darci una mano Ma una bella comunità Sì Cavalli bianchi solcano la grande brateria Felici coni vanno verso il sud Che sarà, che sarà mai se il mondo gira intorno a noi Più costo che girare aspetterò Aspetterò l'appuntamento che qualcuno mi darà Che splendida così La vita riderà Ma che sarà, che sarà mai se il mondo gira intorno a noi Un'occasione ci sarà per me E sono sicura che il tuo guardo Insomma questa festa come potete vedere dietro di noi stanno divertendo anche i bambini più piccoli Moltissimo, sì, siamo qui stasera con i gonfiabili di Happy Time Club Noi siamo una ditta che lavoriamo in tutta la regione Abbiamo appunto i gonfiabili, l'animazione Facciamo non solo eventi pubblici ma anche eventi privati Compleanni, feste, battesimi, matrimoni, di tutto di più Per far divertire i bambini insomma Esatto, infatti stasera ce ne sono parecchi Tra un po' ne arriveranno anche altri Quindi dai, si divertono Grazie, orchestra E dalla festa della Tagliatella è tutto Arrivederci al prossimo anno Ciao 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 Ora! Grazie a tutti! Grazie a tutti!